Allo Stadio Calvi, la Marignanese Cattolica infrange i tabù vittori interne. La squadra giallorossa sceglie la settimana più tosta dall'inizio del torneo, da tre dimensioni di Simone Lilli. Sulla panchina siede il vice Maurizio Galli. Di fronte i Folli, che causa stop, arriva da due sconfitte consecutive con Pro Livorno e Progresso. I giallorossi lanciano dal primo minuto uno degli ultimi arrivi. Camarà, i Folli, si affida l'esperienza di Bono Cunto, Sabato e Ferrari, usato sicuro per uscire dal Turner. Arbitra la gara il signor Polli della sezione di Verona, con adiuvato da Marchesin di Rovigo e da Rizioli di Legnago. La partita offre 15 minuti di studio, sedicesimo e Piva chiamare all'intervento Faccioli con questa sventola dalla distanza. Trascorrono tre minuti con Zamanni che scodera al centro per la testa di Ferrari, con la sfera abbondantemente al lato. Da un alto traversone di Zamanni nasce quasi Godefolli. Gasperoni sulla fascia opposta stoppa la sfera e sforna al centro un traversone su quale Ferrari non riesce a pungere come dovrebbe, permettendo a Pierantozza e Nodari di allontanare il pericolo. Si vede anche la Marignanese Cattolica con la conclusione dalla distanza di Endai e neutralizzata in due tempi da De Gori. I Folli replica da un lancio di Gersos e Balardini sotto misura si divora l'occasionissima dell'1-0. I reprecci mostra l'occasione capitata a centrocampisti in maglia numero 25. Al tredottesimo e Zanni dall'altra parte a far gridare a gol il pubblico di casa, la sfera termina di un niente al lato. Squadre a riposo sullo 0-0. Nella ripresa I Folli si spinge in zona offensiva e colpo di testa di Gigliotti si perde alto. Successivamente, 5 lancette più tardi, lo stesso Gigliotti a ripetersi con la sfera che si perde di poco al lato. La replica dei padroni di casa è affidata a Rizzitelli, il quale è bravo a smarcarsi ma difette in fatto di precisione. I Folli, subita l'iniziativa locale, affonda nei migliori dei modi. Ballardini, approfittando dell'assolo di Gasperoni sul fio del fuorigioco, scaraventa alle spalle di Faccioli il pallone dell'1-0. Rivediamo la conclusione del centrocampista bianco-rosso che giustamente festeggia a suo modo la marcatura. La marignanese cattolica non rimane a guardare. Il pareggio è immediato, avviene due giri di lancette dopo quando dalla fascia destra perviene questo pallone che garavina al volo, scaraventa in fondo al sacco. La gioia dell'esterno giallo-rosso è incontenibile. Dopo Sassomarconi, il numero 23 raccoglie l'abbraccio meritato dei compagni. Il replay ci mostra la volée da parte dei giocatori in maglia al numero 23. Sulle ali dell'entusiasmo, la squadra di Galli riprende coraggio. Dalla bandierina nasce il colpo di testa di Nodari che favorisce il tapì vincente sotto misura di docente. Gol annullato per fuorigioco. Il replay ci aiuta a chiarire meglio la situazione. Nel finale, docente trova i gol del definitivo sorpasso e della vittoria scaccia crisi. Lancia la disperata di Terenzi con Sabato che si lascia scavalcare dalla traiettoria. L'ex di turno ringrazia e di testa beffa De Gori, leggermente avanti alla linea di porta. Il colpo di testa a Berfardo dell'attaccante arrivato a dicembre regala i tre punti alla marignanese cattolica e finalmente sfatta il tabù vittoria interna regalando ai giallorossi la terza vittoria di stagione e domenica prossima trasferta nella vicina Rimini per un nuovo derby. Grazie a tutti.